Si concludono oggi per la polisportiva Podigi Mavellino le finali nazionali del Gran Premio giovanissimi di scherma che si stanno tenendo al play-all di Riccione. Dopo giorni intensi e con alcuni risultati positivi, il team mavellinese ha visto protagonista sabato nella gara Fioretto categoria ragazzi Flavio Acunzo, arrivato 136esimo, e Matteo Iserna, piazzatosi invece 152esimo. Dopo il riposo di domenica, a causa dell'Assemblea federale alla quale hanno partecipato tutti i presidenti delle società, lunedì si sono riprese le gare. Per la Podigim Enrico Iappelli, nella gara Spada-Lievi, ha vinto il suo match ottenendo la qualificazione alle fasi di diretta, perdendo poi quest'ultima 15-8 e piazzandosi dunque a 138esimo. Oggi in gara Ciro Gaeta, girone 13, pedana 23. Sarà lui l'ultimo atleta della polisportiva vellinese, poi si tornerà tutti a casa. Per festeggiare i risultati ottenuti e riorganizzare la prossima stagione agonistica, venerdì 24 maggio alla palestra Podigim di Via Scandone ci sarà una riunione con tutta la squadra.